Ok, il nostro telescopio è pronto, è il momento per la prima luce. Il sarà pronto per trasportare? Lo scopriamo presto! Siamo passati alla partita dolomitica del dolomitico e dobbiamo inserire il nostro caldo con il tutto il telescopio. Successivamente per noi, questo non è un telescopio newtonico, che è enorme e questo è uno degli avvantaggi del nostro celestron HHD Optic. Il telescopio in 5 cappone, tripod, tubo ottico, camera CCD, accessori e montaggio. Iniziamo! In questo modo possiamo tranquillamente e rapidamente trasportare il telescopio senza aver disassemblato ogni elemento. Alcuni elementi già hanno una baglia di trasporto, come l'Avalon Tripod. Per altri, usiamo le casse rigide, per esempio per la camera ATIC. L'easso più facile, però, è di usare le baglie optiche, che sono disponibili in molte forme e dimensioni. Ok, siamo pronti! L'auto è pienamente montato e non credo che dovresti andare con la tua famiglia, ma il cielo è bello, quindi andiamo! E qui siamo, siamo in l'Observatorio di Pordenone Astronomical Association. e, infatti, grazie all'Avalon, ci saranno in qualche minuto. In realtà, tutte le parti sono pre-installate, quindi è molto facile di installare e preparare il telescopio. Per esempio, l'Avalon M1 ha già installato l'Avalon, e possiamo poterciare la monta sul tripod e connectarlo. E poi, poi, abbiamo il telescopio, quindi in un secondo, siamo pronti! E ora, abbiamo ottenuto l'AVTIC camera 16200, e già collegato con l'Axis Guider e il motorizzato Filtre Wheel. E ora possiamo spiegare la bellezza dell'universo. E' fantastico, quindi abbiamo testato tutta questa tecnologia, abbiamo testato la camera, la Filtre Wheel, l'autoguider, il mount, il go-to e il tracking precision, e tutto è stato molto controllato da un'eagle. E abbiamo testato questo, facendo una foto di 10 minuti sulla nebula M27. Questo è il risultato, e potete vedere grandi dettagli su questo. Ma abbiamo ancora qualcosa da capire. Il telescopio è ancora collimato dopo più di 500 km in il carro? Guardate questo sull'optica. Come vedete, la collimazione è ancora vicino a essere perfetto. e grazie al Bob Knobs Collimation Screw, abbiamo bisogno di un minuto per collimarlo perfettamente. Quindi, mission accomplished!